Bentornati sul canale di giornalismo del Cuore Italia 1. Le ultime notizie di oggi like Sulla casa sorvola il secondo aereo della giornata. I fan decidono di mandare un messaggio di supporto a Jessica Dopo l'aereo destinato a Manila, sulla casa più spiata d'Italia sorvola il secondo aereo della giornata, esisti e ti distemmi Fieri di te Cancelletto Jess V. È questo il messaggio che i fan hanno voluto far ricapitare a Jessica per farle sapere che sono orgogliosi per il bellissimo percorso fatto nella casa del grande fratello La principessa, dopo aver letto il messaggio, ha subito ringraziato molto i suoi sostenitori per l'affetto ricevuto, grazie! ha esclamato, mandando un cuore ai mittenti dell'aereo Jessica, inoltre, ha voluto godersi questo splendido momento tra i calorosi abbracci di Sophie, Lulu, Manila e Delia le quali hanno esclamato, fieri di te Questa sorpresa sarà servita a tirare su il morale di Jessica dopo i vari scontri e confronti con Baru? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video